in una struttura protetta. Ed ora parliamo di Gazprom, perché il colosso dell'energia russa nei giorni scorsi è arrivato a Ferrara con una delegazione per visitare l'impianto di teleriscaldamento di ERA di Via Diana. ERA non conferma, ma potrebbe essere davvero il primo passo di un'importante collaborazione in termini energetici fra la Multiservice Emiliano-Romagnola e la stessa impresa di energia russa. Sentiamo. È il colosso dell'energia in Russia e a causa dei cambiamenti sociopolitici soprattutto registrati in Libia, Gazprom potrebbe diventare un fornitore di energia per l'Italia e l'Europa in generale di importanza strategica. Così ERA, la Multiservice presenti in regione in materia di energia e Gazprom iniziano ad avere i primi rapporti di collaborazione. Uno di questi è avvenuto giovedì scorso nell'impianto di teleriscaldamento di Via Diana a Ferrara. 15 persone, tutti tecnici, compresi i tre direttori, sono arrivati in città e con personale ERA hanno visitato l'impianto ferrarese. Un incontro, tiene a precisare la stessa ERA, per ora solo occasione di scambio di informazioni di natura tecnica. La visita della delegazione di Gazprom, tuttavia, potrebbe essere anche il preludio di futuri scambi e importanti collaborazioni del gruppo italiano con gli stessi russi. Il teleriscaldamento in Russia è una forma di energia molto diffusa, tanto da rappresentare un terzo degli impieghi energetici. Nella sola città di Mosca, che conta 18 milioni di abitanti, c'è una delle reti di teleriscaldamento più diffusi in Europa, circa 16 mila chilometri di rete. Con la visita da parte di questa importante delegazione russa, che si è dimostrata entusiasta dell'alto livello tecnologico dei nostri impianti, si è instaurato un cordiale rapporto di collaborazione che comporterà uno scambio di informazioni proficuo per entrambe le aziende, ha affermato il direttore del settore teleriscaldamento di era, Fausto Ferraresi, che ha accompagnato nella visita la delegazione russa, assieme ai responsabili dell'impianto di Ferrara. Torniamo invece a parlare di periferie, perché...